Meno auto in corso martiri della libertà, ma anche una circolazione più controllata in corso Ercole I d'Este, oltre a un sistema più agile per ottenere e rinnovare i permessi ZTL per disabili a Ferrara. Questi alcuni dei punti principali del nuovo regolamento per l'accesso e la circolazione dei veicoli in ZTL. Diverse le criticità segnalate in questi mesi, in particolare in pieno centro storico dove circolavano troppe auto. Con l'accensione attesa da un anno e mezzo delle telecamere ai varchi di Torre della Vittoria e dei 4S, il sistema Musa dovrebbe disincentivare il traffico di attraversamento. Con il nuovo regolamento, che sarà attivo dal 3 maggio, se il Consiglio Comunale darà al via libera, le multe in corso martiri della libertà partirebbero da giugno dopo un mese di sperimentazione. Dopo dieci anni entriamo nella nuova fase, un nuovo regolamento che avevamo promesso, un nuovo regolamento che va nella direzione di ridurre drasticamente il traffico in centro, in Ercole d'Este e in tutto il centro storico. Un nuovo regolamento che avevo promesso e che andremo ad applicare con il Consiglio Comunale a breve, proprio per pochi giorni, e che va proprio in questa direzione, in quella dell'ascolto dei cittadini ferrerresi che giustamente lamentavano questa criticità ma che ovviamente veniva da un regolamento non proprio corretto per ridurre il traffico in centro storico. Un centro storico con poche auto o chiuso va nelle direzioni delle grandi città per l'incentivo al turismo, per l'acquisto dei negozi, per la rivalutazione di tutto il commercio e del turismo. Faccio mio l'appello delle guide turistiche che chiedevano sensibilità importante per la chiusura del centro storico e così arriveremo in quella direzione. Ma più in generale il nuovo regolamento porta con sé un nuovo software che permetterà di acquisire online permessi ZTL e disabili senza recarsi negli uffici di Viale 4 Novembre. Come detto in conferenza, le tariffe saranno leggermente aumentate rispetto a ora e si vuole rendere più costose le fasce orarie dove si registra maggiore traffico.